beh quello di oggi doveva essere il video delle pagelle di juventus lazio no era abbastanza prevedibile questa cosa ebbene credo che non sia giusto nei confronti e nel rispetto di tutte le altre partite che avevano un senso un'importanza mettermi qui a parlare effettivamente di un juve lazio che aveva davvero poco senso l'unica cosa che lo valorizzava appunto era l'addio di giorgio chiellini capitano della juventus e paolo diballa vicecapitano della juventus e quindi anche le scelte sono state fatte di conseguenza l'uscita al campo di chiellini il largo turnover la possibilità di far la standing ovation entrambi quindi per forza di cose ragazzi è difficile valutare una partita del genere quindi non farò delle pagelle vere e proprie vi lascerò comunque al termine del video la schermata classica della tier list delle pagelle quella che faccio di solito e vi invito eventualmente a fare anche voi le vostre pagelle non andrò nel dettaglio non andrò a spiegare il perché di quelle valutazioni semplicemente vi metterò quelle che secondo me sono i voti più giusti per quello che abbiamo visto in campo ieri sera tra l'altro un buonissimo primo tempo della juventus e un pessimo secondo tempo della juventus ma ribadisco farmi il sangue amaro per una partita come quella di ieri sera che aveva un solo significato e cioè salutarne il migliore dei modi due giocatori che hanno scritto la storia della juve beh mi sembra quantomeno bizzarro e sì lo sottolineo due giocatori che hanno scritto la storia della juventus perché a me è dispiaciuto davvero mi dispiace in un momento del genere sentire delle persone che libere di farlo assolutamente libere perché giustamente ognuno ha diritto a una posizione e un'opinione però mi dispiace vedere una frangia di tifosi che continuano a dire che chiellini non rappresenta la juventus che loro non sono rappresentati da chiellini un giocatore avido un giocatore antisportivo un giocatore che non si è fatto voler bene nemmeno dai tifosi avversari a me sinceramente la storia di chiellini dei 17 anni di chiellini da juve racconta tutto l'opposto magari un giocatore che poteva risultare antipatico a inizio carriera per spesso addirittura associato a materazzi no difensore rude mancino italiano che gioca in uno nell'intero una juventus a inizio carriera io me la ricordo questo paragone dei primi anni di chiellini e tante volte si faceva paragone con materazzi penso che la storia poi di giorgio riesca a screditare no questo paragone che non è ovviamente un male essere associato a materazzi io ho risultato tantissimo al gol di materazzi e a tutta la spedizione mondiale 2006 è stato proprio materazzi e con la nazionale a regalarmi il titolo di campione del mondo e a farmi innamorare di questo sport poi ovviamente stiamo parlando di due carriere davvero completamente diverse e oggi giorgio si è riuscito a far amare anche da tanti avversari proprio per le parole spese sempre per il modo in cui si comportava esattamente all'opposto quindi da sportivo questa è la mia posizione ma pensare che c'è una parte di tifoseria che non ha amato un giocatore che è sceso in b insieme a noi è vero molto giovane ma che poi è rimasto è rimasto la juventus per quasi 18 anni quasi 20 anni in cui ti svegliavi la mattina consapevole di fare juventus e sapevi che giorgio chiellini era lì quasi 20 anni di gioie e di dolori condivise con giorgio chiellini tra azzurro e bianconero ripeto ognuno è libero di pensare a quello che vuole ma io sono davvero stupito nel vedere che ci sono tanti tifosi che non hanno nemmeno voluto capito la situazione e tanti che continuano a scrivermi l'addio di chiellini non mi ha toccato minimamente non so come sia possibile sinceramente così come non so come sia possibile dall'altra parte anche non sentire l'addio di paolo di bala che rimane dieci anni in meno alla juventus è vero ma è la storia classica del ragazzo molto giovane che arriva alla juve e che si mette in gioco per la juve e che anno dopo anno con le prestazioni sul campo si guadagna la maglia numero 10 e la fascia la capitana poi è ovvio nelle ultime stagioni paolo ha subito tanti infortuni e questo ha sicuramente limitato il suo rendimento e questo sicuramente ha anche influenzato il giudizio della juventus sul proseguire insieme oppure no ma anche qui volenti o nolenti si parla di un pezzo di storia della juve è uno dei dieci giocatori migliori della juventus per quanto riguarda le reti segnate è uno dei tre migliori giocatori per reti segnate nella storia della juventus nella competizione europea champions league non stiamo parlando di uno che del primo che passa stiamo parlando comunque di un numero 10 della juve e anche qui liberi di pensare quello che si vuole liberi di pensare che non è stato all'altezza dei più grandi numeri 10 penso anche che sia scontato e penso anche che il paragone con alessandro il piero sia anche abbastanza indecoroso non c'entrano niente sono due storie diverse di due calciatori diversi ma questo non significa che non sia necessario rendere omaggio a paolo dibala poi se c'è una cosa davvero che mi fa arrabbiare è quando leggo che il problema di dibala è il fatto che sia fidanzato e che pensi troppo alla sua fidanzata cioè queste ragazzi sono cose becere questo non è un'opinione questa è una puttanata perché ogni calciatore ha diritto nella sua sfera privata a fare il diavolo che vuole posso essere d'accordo che ognuno possa avere un'opinione a proposito di quello che hanno fatto in campo di quello che hanno fatto nella storia della juve questi calciatori è soggettivo indubbiamente ma dire che il problema di dibala è che tutto quello che è diventato dibala e gli infortuni di dibala siano da associare alla sua sfera personale ragazzi è qualcosa di veramente un cercare di aggrapparsi a qualcosa di vergognoso e se c'è una cosa che non mi è piaciuta ieri sera è stata questa differenza di trattamento tra dibala e chiellini a maggior ragione perché giorgio è vero è stato dieci anni di più lo sappiamo io ho comprato la maglia no con la patch mentre eravamo in diretta ieri sera e quindi è ovvio che però giorgio ha scelto di andare via dalla juve però no e penso che anche le reazioni a fine gara potessero testimoniare questa cosa oggi c'è oggi c'è il processo adibala per quello che non ha accettato che poteva accettare c'è una sola verità all'interno di tutta la faccenda e cioè che nessuno di noi ha tutti gli elementi a disposizione per sapere esattamente che cosa è successo tra dibala e la juventus quindi qualsiasi giudizio che oggi viene dato è dato semplicemente sulla simpatia o l'antipatia che si prova per paolo dibala non mi è piaciuto vedere che la juventus non ha riservato dei saluti a paolo dibala come magari meritava che non è stato nemmeno menzionato troppo sui social che non è stato creato un video anche per lui per salutare meno male che leonardo bonucci ha spinto dibala verso la curva meno male che leonardo bonucci ha sbloccato questo sentimento che paolo ha cercato di mantenere dentro di sé e poi è imploso perché il pianto è gioia il pianto è amore e io ieri sera sono stato una fontana non smettevo più di piangere e allora mi domando per chi non è riuscito a versare neanche una lacrima né per uno né per l'altro oppure solo per uno dei due ma perché si segue il calcio perché io seguo il calcio per questo perché mi appassiona mi emoziona mi crea qualcosa dentro mi accendo un fuoco il mio cuore batte poi c'è tutta una storia populista dietro ho letto commenti del tipo come fai a piangere per questi e non per la guerra oppure come fai a piangere per questi che guadagnano i milioni ma che commenti sono il mio cuore i miei sentimenti il mio cervello tutti questi anni passati in compagnia di queste persone che sono diventati veri e propri compagni anche se non li ho mai incontrati no chiellini si è incontrato un paio di volte giorgio ed è stato bellissimo ma sono diventati dei compagni veri e propri perché perché rappresentano quella che è la mia squadra del cuore io non riesco a capire come faccia la gente a non emozionarsi di fronte a queste cose di fronte a tanti anni vedere quel bambino che piange per l'addio di paolo di bala è bellissimo vedere gli adulti che piangevano per l'addio di giorgio chiellini altrettanto bello perché ognuno ha diritto di identificarsi all'interno di un calciatore che ha rappresentato la sua epoca è inutile venirmi a dire sì ma io ho visto scirea sì ma io ho visto baggio sì ma io ho visto vialli ho visto del piero ognuno si innamora dei calciatori che hanno rappresentato la loro juventus io non mi emoziono di fronte alla juve di scirea non l'ho vista non mi posso emozionare di fronte alla juve del 96 che ha vinto la champions non l'ho vista sono cose che le vedo sono contento perché fanno parte della storia della juve ma non li ho vissuti in prima persona e non saranno mai un sentimento forte come quello che ho provato ieri sera per giorgio e per paolo che possono aver fatto di meno nella storia della juve possono aver vinto trofei meno importanti nella juve non me ne frega niente non me ne frega niente perché io mi sono affezionato a loro in 17 anni a giorgio e in 7 anni a paolo e qua apriamo una discussione invece inerente alla società alla dirigenza ad andrea agnelli perché ieri sera ci sono stati dei fischi nei confronti di andrea agnelli e come vi dicevo prima non mi è assolutamente piaciuta la gestione di paolo di bala anche sui social e quindi non non voler quasi nascondere il fatto che anche di bala stesse salutando la juventus questa cosa non mi è piaciuta per niente e non ho idea ancora una volta ve lo ripeto non so che cosa sia accaduto lì dentro tra di bala e la juve non lo so non mi interessa nemmeno perché veramente meno ne so di quello che poi accade davvero dentro le società meglio è perché poi si rischia di disinnamonarsi anche è per come tutte le cose quando entri proprio dentro alle dinamiche è una cosa differente e questa la serata di ieri sera mi ha confermato ancora una volta che difficilmente riuscirei a lavorare all'interno della juventus a questi livelli e cioè dirigenza o presidenza perché sarebbe complicato davvero complicato per me prendere queste decisioni del tipo no questo non rinnova questo se ne va questo lo confermo questo no a maggior ragione se sono giocatori che mi sono entrati dentro dopo tanti anni per me veramente è complicatissimo lo stesso andrea agnelli lo disse all'epoca quando salutò massimiliano allegri no salvo poi riprenderlo per dopo due tre stagioni due stagioni però è difficile è molto difficile il fischio ad andrea agnelli che cosa significa beh tanto sicuramente la curva ha dei motivi diversi di fischiare agnelli no sappiamo bene ho fatto anche un video a riguardo poco tempo fa può essere un fischio inerente alla gestione paolo di vala collegato strettamente la gestione paolo potrebbe essere pure questo io non sono contro i fischi lo dico subito non avrei fischiato quindi non li condivido io non avrei mai fischiato andrea agnelli ma li capisco capisco perché da qualche anno a questa parte la gestione societaria della juventus la gestione proprio dirigenziale della juve sta commettendo degli errori e questi errori sono tradotti sul campo e sta prendendo delle decisioni che sono decisioni forti sempre in ambito prima squadra in ambito tesserati e sono a volte decisioni anche impopolari io non so se è giusto sbagliato salutare paolo di bala io ragionando di cuore avrei detto andiamo avanti ma anche ragionando sotto il punto di vista squisitamente tecnico e tattico di bala il capo canone era della juve di quest'anno quindi non me ne sarei privato avrei almeno provato a fare un'offerta al ribasso come è stata fatta bene o male a tutti quindi capisco che i tifosi possano essere quantomeno perplessi di fronte a tante cose che stanno accadendo la juve di fronte a un tifo organizzato che non c'è più di fronte a una curva che non è più quella di una volta e non è una frase fatta non è un discorso che bei tempi in cui no c'è un dato di fatto e lo sappiamo tutti benissimo lo sappiamo tutti a roma si è visto tutto un altro clima tutto un altro clima perché rappresenta il tifo quelli che andavano in curva in sud a creare la bolgia dello stadium e quindi io capisco capisco i tifosi che che oggi vogliono far capire alla dirigenza in modo pacifico perché il fischio è un modo pacifico di esprimere un'opinione non possono dire tutti insieme andragnelli guarda è per questo questo non possono fare un elenco di cose poi io ribadisco io non avrei fischiato perché non mi piace io non sono uno da fischi non fa parte di me ma non mi sento di criticare chi si è sentito in dovere di far notare ai piani alti che c'è qualcosa magari più di una cosa che allora non va più bene questa semplicemente è la mia posizione miei due centesimi non sono qua dire che che ho ragione io e che invece chi pensa che il fischio sia stato giusto sbagliato abbia tornato non me ne frega niente questo è semplicemente il motivo per cui secondo me ci sta anche a fischiare lo stadio soprattutto quando le cose non vanno bene è ovvio che ci troviamo di fronte a una dirigenza che negli ultimi 11 anni ha vinto 9 scudetti quindi non stiamo parlando di un disastro vero e proprio però è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni purtroppo le cose non stanno più andando come una volta e anzi si stanno prendendo delle decisioni sempre più difficili sempre in più impopolari che magari proprio per quello che dicevo prima per un tifoso sono difficili da accettare perché si ragiona di pancia e di cuore mentre magari in dirigenza si deve ragionare di testa e queste col seno di poi si riveleranno decisioni corrette io questo non lo so non ho la sfera di cristallo questo è quello che mi auguro per il bene della juventus è ovvio che mi sarei mosso in tutta altra maniera ma fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti oggi pomeriggio proviamo a parlare anche di qualcos'altro se facciamo in tempo perché pogba dell'itmo isa che in ieri si è parlato un po di tutto con la scudere di minoraiola